La curva epidemica continua a salire. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da coronavirus registrati sono 11.705. Ieri erano stati 10.925. A fronte di 146.000 tamponi analizzati, vale a dire circa 20.000 in meno rispetto a ieri. In aumento anche le vittime. Stando a quanto riportato nel consueto bollettino quotidiano della protezione civile del Ministero della Salute. I morti legati al Covid registrati in un giorno sono 69, in crescita rispetto ai 47 di ieri. I pazienti al momento in terapia intensiva a livello nazionale sono 750, mentre ricoverati con sintomi sono 7.131. Intanto la percentuale tra tamponi e positivi è arrivata a 7.98%. Per questa sera è attesa la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, durante la quale saranno presentate le nuove misure per contenere i contagi, tra restrizioni, chiusure e i provvedimenti. La regione più duramente colpita dal virus continua ad essere la Lombardia, che oggi conta quasi 3.000 nuovi positivi. Per la precisione, i contagiati registrati nelle ultime 24 ore sono 2.975 a fronte di 30.981 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano 2.664. Solo nella provincia di Milano ci sono 1.463 nuovi positivi e più 727 in città. Le strutture ospedaliere lombarde tornano ad essere in sofferenza con 110 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Gli reparti ordinari, invece, i posti letto occupati hanno sfondato il tetto dei 1.000 e sono saliti a quota 1.065. Le 21 morti legate al Covid portano il totale delle vittime in Lombardia a 17.078 persone dall'inizio della pandemia. Frenano i contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 1.376 nuovi casi. Ieri erano stati 1.410. I tamponi analizzati sono 14.256. Il totale degli attualmente positivi su tutto il territorio al momento vuolta 25.819. Seriamente affaticate le terapie intensive, come è noto. Il report dei posti letto da Covid su basi regionali indica in 78 i posti letto in terapia intensiva occupati sul totale di 113. Nel Lazio, invece, si sono registrati oltre 1.000 casi su 23.000 tamponi analizzati. In particolare, i nuovi positivi accertati sono 1.198 con un record negativo nella provincia di Frosinone. Intanto, proprio dal Lazio, arriva una notizia che potrebbe rivelarsi molto utile per l'inverno che impalza. Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale sia di tipo A, di tipo B e Covid-19. A darne le annuncio l'assessore regionale della Sanità del Lazio Alessio D'Amato.